uscire dalle posizioni ora su bitcoin sarebbe veramente un grave grave problema perché da una parte tutto quello che è stata la parte di uptrend del re delle criptovalute da novembre in poi sarebbe in pratica da proteggere ragazzi ma allo stesso tempo si potrebbe innescare una ripresa repentina anche di bitcoin stesso dopo questo mini ribassino di cui abbiamo parlato per tutta la scorsa settimana e quella ripresa magari porterebbe a un super pump lasciandoci in fomo è una situazione estremamente problematica quella attuale ed è di questo che andremo a parlare proprio oggi ragazzi perché cercherò di farvi capire anche come ho deciso di ragionare io bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video e oggi ragazzi andiamo a fare un po' un escursus su quello che è stato fatto da bitcoin negli ultimi mesi ma soprattutto mi interessava in maniera molto rilevante farvi vedere concettualmente questa cosa qui ragazzi cioè il grave problema attuale cioè il famoso doppio massimo che si è andato a verificare che ovviamente ragazzi come un po' da attese bitcoin non ha sfondato al primo colpo è ovvio che manda in crisi tutto quello che è la struttura dei trader e degli investitori proprio perché senza un rialzo di sopra di questi livelli questa struttura di trend che è iniziata dai massimi del 2021 massimi storici di bitcoin non si può definire invertita cioè in pratica questo livello di trend è ancora oggi valido per un tecnicismo ma comunque lo è ragazzi e i tecnicismi soprattutto sui mercati delle cripto sono assolutamente da monitorare da tenere sotto controllo quindi solo ed esclusivamente un superamento di questo livello 25.500 e 526 che ormai è diventato mainstream oserei dire per tantissimi nel mondo cripto sancirebbe la definitiva chiusura di questo trend che poi ovviamente ne è iniziato un altro qui non ci dà la risposta se questo nuovo trend potrebbe essere come quello precedente quindi puoi virare nuovamente al ribasso non ci dà risposta perché anche questo trend vedete è stato creato in questo modo quindi al momento senza il superamento di quei livelli stiamo appunto e a capo in una situazione ovviamente insomma come c'era da assolutamente da aspettarselo di indecisione proprio per bitcoin non è solo questo dato che dobbiamo controllare ma una serie anche di dati contraddittori che la scorsa settimana sono usciti allora nuovo dato intanto andiamo a guardare quelle che sono le analisi di natura fondamentale perché così un po' solidiamo allora lo scorso alla scorsa settimana sono uscita una carrellata di dati di cui i più importanti sono quelli del venerdì 3 febbraio perché il tasso di interesse alzato del 025 da parte della fed e la conferenza stampa di Powell erano più o meno attesi questi dati non sono eccessivamente importanti anche se io quello sullo scorta del petrolio lo tarrei sotto stretta considerazione anche ISM dei direttori di acquisto però comunque non importanti come questo ragazzi cioè le buste paga del settore non agricolo cioè non farm payroll e FP schizzati alle stelle che significa in pratica che ci sono c'è stata una massiccia quantità di assunzioni a gennaio di nuovi occupati già la disoccupazione era molto bassa era precedentemente stimata al 3 6 percetto scende creando un minimo non so di quanti anni fa ragazzi ma se non erro una cinquantina d'anni fa quindi questo è uno dei minimi più bassi della storia degli stati uniti d'america sul tasso di disoccupazione che indica a gennaio proprio come l'economia americana è fortissima in questo momento è necessita assolutamente di vedere una riduzione e una diciamo un po' di acqua sul fuoco che poi effettivamente è questo quello che Powell aveva detto anche l'ISM schizzato alle stelle cioè alle stelle no ho detto un parolone insomma un po' rialzato rispetto alle aspettative precedentemente vedete era anche nella fascia recessione che se di poco ritorna a essere positivo segno che in pratica questo soft landing ragazzi si sta andando a creare siamo ancora a febbraio manca qualche mese per diciamo cantare vittorio per l'anno 2023 ma i dati al momento indicano come era una mia attesa di cui vi avevo parlato ovviamente ne era un po' un pensiero da macroeconomista insomma dipendente dai miei vari studi in dottorato di macroeconomia che quest'anno fosse possibile una cosa del genere ma era molto molto difficile però sembra proprio per una serie di motivi ragazzi che insomma andrebbe andrebbero spiegati in un solo video perché sono veramente tanti però in questo caso ragazzi sembra andare in questo verso quindi se questa view continuerà c'è un soft landing probabilmente i mercati non andranno in burran però non avranno tanto motivo di crashare c'è anche da dire che la proprio nel ovviamente non vi parlo di crashare domani e dopodomani ragazzi vi parlo di crashare entro la fine dell'anno poi c'è da dire che Powell però parlerà proprio nella giornata di domani e il discorso di Powell dovrà essere estremamente attenzionato anche se io credo che sostanzialmente non modificherà quello che già ha detto più e più volte quindi dirà più o meno la stessa cosa c'è da dire che la fed ha una mano molto forte e molto dura sulla politica monetaria di ribassi di tasso di interesse nell'anno 2023 non se ne vedrà neanche l'ombra come dico da mesi ed è assolutamente così perché i dati sull'economia sono molto forti secondo me andiamo verso una nuova situazione un nuovo periodo che ricorderà molto quello che era post anni 80 ragazzi c'è un nuovo periodo di stabilità economica se questi dati venissero confermati per tutto l'anno 2023 ovviamente e questo darà le mani alla fed la possibilità di mantenere i tassi di interesse sempre alti non vedo all'orizzonte o almeno non nell'immediato le burran drogate che abbiamo visto negli ultimi 10 anni ciò non significa che i mercati non potranno salire ma che potranno salire in maniera magari meno intensa e soprattutto bisognerà ragionare molto di stock picking attenzione alle cripto ragazzi perché in uno scenario di normalizzazione secondo me le cripto diventano lo strumento dei prossimi anni questo su questo video poi su questo argomento ne parliamo in un altro video prima di rispondere al quesito di come sto impostando l'operatività proprio nel breve in questa settimana in pratica ragazzi volevo farvi vedere un altro indicatore che è legato invece all'analisi teoricamente analisi fondamentale così definita cioè l'analisi del mining di bitcoin è un indicatore interessante si chiama the pool multiple ed è fatto in questo modo ragazzi è un indicatore che mette a confronto quella che è la le emissioni il valore in dollari delle nuove emissioni di bitcoin nel circuito della blockchain e li confronta con la media annuale sempre in termini di costo in dollari quindi il valore in dollari di quelli che sono i bitcoin che sono state emessi nell'ultimo anno quando scende questo indicatore che vedete e questo qui che scende molto significa in pratica che i nuovi bitcoin sono troppo economici rispetto ai precedenti e la valorizzazione di questi bitcoin sono troppo economici c'è una sorta di ciclicità che è stata dimostrata in questo grafico ovviamente come ben sapete prendeteli con le pinze questi dati non vi affidate ciecamente l'unico dato di cui vi dovete fidare ciecamente nei mercati finanziari è solo ed unicamente il prezzo dell'asset ragazzi quindi il trend dell'asset gli altri dati sono dati che noi teniamo in considerazione per tanti motivi ma non vi dovete fidare ciecamente comunque di quei dati lì allora questo indicatore è interessante quindi ve lo volevo far vedere vedete come quando è all'interno di questa fascia di prezzo cioè in sostanza scende sotto lo 0,3,5 insomma sotto questa zona qui è arrivato addirittura un minimo di 0,3 in pratica cosa succede? che i bitcoin nuovi sono troppo economici e teoricamente siamo alla fine di un ciclo tanto è vero che poi ne è iniziato un altro stessa cosa per esempio abbiamo avuto il 2015 con il minimo poi del 2018 dicembre 2018 come vedete anche sotto si evidenzia anche una struttura ciclica a forma di M e poi abbiamo avuto l'altra struttura ciclica che sembrerebbe ancora una volta vedete essere terminata proprio con il minimo di novembre ancora una volta questa struttura ciclica cioè il ciclo in questo caso dell'Halving che abbiamo già visto in altri grafici quindi non è un'informazione nuova ve l'ho mostrata utilizzando un'analisi ciclica però è interessante vederla anche da un punto di vista cioè il punto di vista dei miner e quindi volevo far vedere questa cosa detto questo andiamo a ragionare in termini della questione di cosa fare adesso ragazzi su bitcoin in questa fase io prenderei ad esame quello che è il grafico in questione cioè il grafico dei di bitcoin la chiusura ciclica di bitcoin che attendevamo nella settimana in questa settimana cioè dopo il 6 di febbraio perché c'eravamo posizionati con Nasdaq la scadenza ciclica è stata confermata il massimo è avvenuto il giorno giovedì del 2 febbraio in questo caso il mercato sta facendo la sua chiusura ciclica che al momento guardando quello che è la struttura dell'up trend è una semi barzelletta non vedete come è irrisorio diciamo la fase di bassista se dovesse terminare qui attenzione perché non è così semplice e non è così banale la questione in quanto non solo all'interno di questa struttura bitcoin potrebbe chiudere un ciclo mensile bensì potremmo essere anche molto vicini alla chiusura di un'altra struttura ciclica che è un ciclo trimestrale da circa 90 giorni e quindi ragazzi quel ciclo mensile a questo attuale potrebbe allungare all'interno di questa settimana di un poco questo significa che in pratica noi andiamo vedete questo è il semestrale più o meno così tarato poi magari lo cambiamo man mano che avremo le chiusure cicliche questo è uno standard di durata di un semestrale di bitcoin e niente di anomalo dopodiché a metà più o meno dovremmo essere a metà di questa struttura ciclica e quindi chiudere all'interno di questa settimana anche non solo il ciclo mensile ma anche il ciclo trimestrale ragazzi quindi da qui sono 90 giorni ma in tutta la settimana quindi se andiamo a ragionare in tutta questa settimana quindi potremmo avere un minimo proprio all'interno della settimana in questione non soltanto qui giorno 6 però giorno 6 intanto l'ha fatto dove potremmo arrivare? secondo me intorno a 44-45 giorni massimo cioè io gli darei tutta questa settimana di tempo ragazzi è un po' tanto però gliela darei tutta al mercato prima di eventualmente prendere le mie decisioni e su questo punto è molto importante farvi ragionare perché è proprio su questo che si basano le mie decisioni personali sull'attuale fase su cosa andrò a fare io con le mie posizioni quelle aperte scusate aperte a dicembre se no che ragazzi questa struttura ciclica di bitcoin va a confermarsi una struttura correlata a quella di Nasdaq e noi proprio su quello abbiamo giocato la nostra partita da notare che Nasdaq ha tentato anche il breakout di questo livello che sancisce me ne va beh definitiva che qui è iniziato un nuovo semestrale che non può essere più appartenente al momentum precedente attenzione perché l'ipotesi che anche l'annuale di Nasdaq si è iniziato a gennaio o a novembre è comunque valida a ottobre scusate è comunque valida questa zona qui però di questo poi ne parliamo perché non voglio fare un video ingarbugliato con diverse analisi su diversi mercati qui quello che ci serve in questo momento è solo unicamente guardare il ciclo mensile ciclo mensile di Nasdaq che sembra in fase di definizione sono 34 giorni 23 barre perché bisogna fare una differenza quando si calcolano i cicli ragazzi le barre vanno bene per il calcolo dei cicli sui mercati standard le stocks per esempio i future o le commodities perché sono chiuse sabato e domenico nel caso anche dei future o di bitcoin vanno bene considerare le barre ma nel caso di bitcoin spot no perché abbiamo tutti i giorni aperti quindi noi andiamo a ragionare in termini di giorni però qui ragazzi ovviamente il numero delle barre è più corto rispetto a un mensile perché sono 25 giorni se io lo posiziono qua però in effetti sarebbero 36 giorni c'è da dire che ciclicamente di solito non si prende in considerazione i giorni in cui i mercati sono chiusi però bitcoin non fa questo per questo noi andiamo a utilizzare solo unicamente il dato dei giorni e non il dato delle barre che nel caso di bitcoin spot non ha molto senso visto che è sempre aperto allora qui in questo caso noi potremmo posizionare vedete proprio vicino a giovedì con un 26 26 barre sono un ottimo mensile un po' lungo ma ci sta anche perché è stato molto rialzista quindi non è anomalo o una cosa del genere e anche nasdaq indicherebbe da oggi in poi ogni minimo è buono cioè sostanzialmente questo indicherebbe per un'eventuale fase di ripresa dal punto di vista di pricing che il bitcoin ha raggiunto ha raggiunto il mio livello minimo di ribasso cioè la zona tra le due medie mobili che noi utilizziamo sempre la 11 e la 21 e questo è il livello minimo di ribasso e qui interviene appunto la mia scelta operativa perché ragazzi perché al di sotto di questo livello siccome ancora noi non abbiamo mai breccato questi massimi e questa fascia qui al di sotto delle due medie mobili se bitcoin dovesse breccarle in maniera più consistente in uno o due giorni cioè andare intorno ai 22.000 e ai 2-22.100 sarebbe estremamente rischioso restare in posizione perché la questione è appunto il fatto che il mercato possa aver fatto dei massimi di questo ciclo semestrale ricominciare a scendere e indicarci poi fra qualche settimana che il presente ciclo non era stato chiuso e che quello è legato a giugno mi sembra un po' un'analisi che terrò sotto stretta osservazione ma i dati oggettivi indicano che questa analisi è ancora valida quindi noi non possiamo escluderla ciò significa che se avete aperto le posizioni come me intorno ai primi di dicembre a metà dicembre circa e sono in iper profitto e ragazzi poi qui lasciare il profitto è sbagliato al mercato qual è il problema? ve lo dico in maniera molto chiara e schietta che se non siete trader in questa fase non potete agire il mercato vi legherà le mani questo è il problema e la mia scelta è stata proprio quella di agire come trader proprio per pochi giorni mentre da dicembre io sono praticamente fermo ragazzi sono fermo da quasi due mesi e non ho fatto nulla se non qualche piccola operazione di trading un po' per divertimento più che per altro tra l'altro andate anche bene per esempio insomma qualcosina così ora che ero qui in vacanza su DYDX su phantom ma niente di rilevante poche cose giusto per divertirmi un po' però le posizioni quelle grosse ragazzi erano in hold da dicembre e sono due mesi che io non ho mai operato sono restato ho fatto trend follower come ben sapete e sono rimasto lì la questione però è che se bitcoin ci dà un minimo troppo profondo e con un close confermato ovviamente ragazzi in daily succede che potrebbe generare un crash come anche in questo caso vedete come qui poi qui c'è stato l'evento FTX quindi vabbè però tutto è possibile in questo mercato perché tenere lì i profitti e farseli mangiare dopo un rimbalzo di questa levatura che basterebbe praticamente per il gain di due anni di fila allora a quel punto ho deciso di spostarmi e ridiventare trader per qualche settimana cioè questa in corso qualora bitcoin dovesse buttarmi fuori e io utilizzerò sempre costantemente il mio train system e quello che condivido in academy con tutti gli iscritti per il segnale di uscita a quel punto io utilizzerò un altro time frame per il segnale di entrata che non sarà un time frame lungo ma sarà un time frame breve e principalmente ragazzi andrò a utilizzare probabilmente un time frame a tre ore per un'eventuale fase di rientro sul mercato perché non mi fido di un ribasso di bitcoin in questa fase non voglio restare in pomo con il ceno in mano aspettare che il mio train system poi mi ridà il segnale ma me lo darà sopra i 20 sopra questa zona poi 24 quindi poi è troppo alto non voglio perdere così tanto terreno e sentirmi un po' con l'acqua alla gola perciò proprio per fare questo ridivento trader purtroppo per chi magari non lo sa fare per qualche settimana una decina di giorni e andrò a monitorare il grafico a tre ore proprio per l'ingresso basato sempre esclusivamente però sul concetto che in questa zona possiamo chiudere un ciclo mensile quindi in base a questo concetto qui e alla ripartenza di un eventuale ciclo trimestrale di bitcoin oltre che al mensile io voglio entrare long in questa fascia temporale quindi se bitcoin non mi butta fuori sarò più che felice di gridare eureka e i pipurra non ve lo nascondo perché preferisco non uscire proprio dalla posizione restare ancora old ma se mi dovesse buttare fuori poi non rientro aspettando nuovi massimi ma rientrerò da trader su un grafico più breve questa secondo me è la soluzione migliore ed è l'unica cosa che io ho trovato in questo momento mi dispiace che magari non è molto facile da seguire questa operazione quindi per voi magari sul canale youtube diventa un po' complessa io comunque qualora dovesse poi succedere un'eventuale uscita di bitcoin ve lo comunicherò nei video l'unica cosa ragazzi i video non sono aggiornati ogni giorno quindi poi bisogna aspettare il video successivo però insomma io in academy pubblico le operazioni in tempo reale ragazzi però chiaramente su youtube non è possibile anche perché non voglio neanche essere copiato che come sapete non è il modo giusto di fare trading quindi questa è la mia decisione al momento fate attenzione che tra le altre cose in questa zona qui probabilmente se dovessi vedere una mini inversione come vi dicevo sul grafico 3 ore deciderò anche una nuova posizione su un portafoglio crypto non solo bitcoin quindi ritornando magari a comprare alcune crypto che ho già selezionato ne ho selezionato 74 da sviscerare da analizzare ancora un po' in questa settimana e poi vorrei tirarne fuori una ventina che saranno poi prese sotto stretta osservazione proprio sulla ripartenza di questa fase che come qualcuno di voi mi ha suggerito in un commento sull'ultimo video era il famoso dip possibile di bitcoin che andrebbe teoricamente comprato ed è giusto così quindi io quello che vi ho detto anche in quel video dove parlavo del possibile paio dei dip il primo dopo un anno e mezzo in pratica di bitcoin ve lo ribadisco ed è proprio per questo che ho scelto di fare uno switch alla mauro trader proprio per agire meglio in questa posizione va bene fatemi anche sapere quali sono invece le vostre coin preferite anche se più o meno me l'avete già detto però proprio per la successiva fase dovesse bitcoin breccare effettivamente poi 25.000 26.000 dollari innescando una palese burrano perché se fa un break di quel tipo ragazzi aspettatevi un pump improvviso anche all'interno di un solo giorno quali saranno secondo voi le cripto che potranno dare soddisfazione magari ci stampano un bel 30% in una sola giornata come è bello questo mercato ragazzi a volte ci dimentichiamo che il trader non deve fare o l'investitore non deve fare operazioni tutti i giorni ma bastano magari quei 2 3 giorni importanti dell'anno a cambiarvi completamente la dinamica dell'intero portafoglio detto questo io vi auguro un buon inizio settimana ciao a tutti